Tutti i nostri tutorial sono audio descritti. In descrizione trovi il link all'articolo su Orbolandia con l'opportunità di scaricare direttamente le applicazioni o documentazione di supporto a questo video. Buonasera, buonasera da Sergio e Fuego di Orbolandia. Oggi vogliamo parlarvi di un'applicazione, un editor audio e anche video, completo, semplice, in italiano al 90%, potrà sembrarvi complesso ma non lo è perché in realtà è molto facile ma fa tante cose, quindi fare un tutorial per tutto quello che fa questa applicazione, che non vi ho ancora detto come si chiama, ve lo dico adesso, si chiama Super Sound. Dicevo fare un tutorial unico per questa applicazione ci vorrebbero un paio d'ore, quindi abbiamo pensato di fare una cosa che adesso vi spiego. Cominciamo ad aprire l'applicazione. Diario. Ok, vabbè, questa diario è un'applicazione che tra un po' avrete tutti quanti. Super Sound. Eccolo qui, Super Sound. Diamogli un doppio tappo e vediamo come si presenta. Super Sound, modifica multitraccia. Ok, lui si presenta subito in alto a sinistra con modifica multitraccia. Però noi prima di tutto andiamo a vedere la parte bassa dove c'è un pannello, un pannello con un menu ovviamente, quindi io tocco la parte bassa dello schermo. È selezionato, modificare, pannello 1 di 4. Sentite, pannello 1 di 4, modificare ed è selezionato. Quando si apre, si apre con modificare già selezionato. Se faccio il flick verso destra. Studio, pannello 2 di 4. Studio. Studio praticamente ci ritroveremo tutti i file che stiamo elaborando, che abbiamo finito di elaborare. Libreria, pannello 3 di 4. Libreria. Noi abbiamo modo con questa applicazione di andare, di utilizzare file addirittura dall'Apple Music, insomma, da Internet, eccetera, o da Apple Music ovviamente se li abbiamo scaricati e pagati. Comunque, a parte questo, e poi dal nostro iCloud, insomma, dal nostro smartphone. Ok? Li possiamo prendere direttamente da lì o caricarli anche qui, diciamo, in questa libreria. Andiamo a destra. Impostazioni, pannello 4 di 4. L'ultimo è impostazioni. Impostazioni, non c'è molto da impostare. Forse la cosa più importante da dirvi è che questa applicazione è sì, gratuita, ma non fa tutto e ha la pubblicità. Volendo, si può togliere la pubblicità ed ottenere tutte le opzioni, tutte le impostazioni, impostazioni complete, con, diciamo, ci fa varie offerte. L'offerta che costa di più è quella mensile, che costa 4-5 euro. Annuale costa, fare, 14-15 euro, qualcosa del genere. Per sempre, 30 euro, qualcosa del genere. Però attenzione, perché non sono preciso con queste cifre? Noi è dall'inizio anno che la stiamo visionando e spesso volentieri migliorano, insomma, le abbassano. Quindi controllate sempre, capito? E fanno delle offerte, ecco, in parole povere. Va bene? Allora, torniamo indietro e adesso vi parlo proprio dell'applicazione e vi faccio vedere cosa fa. Ho fatto i flick orizzontali verso sinistra e mi sono posizionato nel punto più in basso a sinistra dove c'è il primo pannello modifica. È già selezionato, così sicurezza lo risondo. E' selezionato. E' selezionato. E' selezionato. E' selezionato. Ok, e adesso vado, tocco con un dito la parte alta in alto a sinistra e così visioniamo tutta questa home. Modifica multitraccia. Ecco qui, qui c'è il primo pulsante in alto a sinistra. Modifica multitraccia. Significa che qui possiamo modificare, ci dà modo di modificare in mille maniere tante cose. Possiamo alzare il volume, possiamo cambiare voce. Guardate, lo scopriamo. Quindi una multitraccia sarebbe appunto, che ne so, un parlato con un sottofondo che abbiamo costruito noi, comunque, con questa applicazione. Perché è davvero completa. Vado subito a destra e vi faccio, diciamo, vedere velocemente tutto ciò che è in grado di fare. Allora, il primo abbiamo detto... Modifica multitraccia. Andiamo al secondo. Modifica audio. Ok, è inutile che lo spiego. Qui possiamo modificare l'audio in mille modi, come vi avevo già detto. Taglio l'audio. Qui possiamo tagliare l'audio. Quindi possiamo fare un taglio, che ne so, dall'inizio alla fine. Possiamo prendere un pezzo centrale, quindi tagliare l'inizio in mezzo e la fine anche in mezzo. Insomma, possiamo tagliarlo come vogliamo. Unisci audio. Qui invece possiamo unire audio. Attenzione, non una traccia sopra l'altra, ma una traccia di seguito all'altra. Sempre con la possibilità, poi, di modificare le tracce che immettiamo una presso l'altra. Magari se hanno due volumi diversi, noi le immettiamo, ma possiamo modificargli il volume. A quella che c'è la più basso, alzarlo. A quella che c'è la più alto, abbassarlo. Andiamo a destra. Diviso. Qui possiamo dividere, invece. Se abbiamo un brano, un audio, insomma, possiamo suddividerlo. Possiamo suddividerlo, tenendo, che ne so, lo suddividiamo in tre parti e otterremo tre tracce, una in fila all'altra. Poi? Cambio tonalità. Qui addirittura, se abbiamo un brano, possiamo cambiargli tonalità. Questo è molto utile per chi usa, chi fa il karaoke, che magari, insomma, è in grado di ottenere una determinata tonalità e il brano che ha trovato ne ha un'altra. Ecco, si carica questo brano e si cambia la tonalità. Andiamo a destra. Cambia voce. Ecco, qui possiamo cambiare la voce agli audio parlati, ovviamente. Non fa miracoli, ve lo dico subito, però cambia la voce, che ne so, magari è maschile e la potete mettere femminile, magari è vecchio e potete mettere giovane, magari è giovane e siete vecchi. Quindi avete tante possibilità. Andiamo avanti. Convertitore da video ad audio. Ecco, questo è anche interessante. A volte abbiamo dei video e ci serve solo l'audio. Con l'iPhone non è mai stato così facile ottenere l'audio dal video, direttamente e facilmente con un'applicazione, e quindi dovevamo usare il computer, eccetera. Qui invece, proprio con facilità, carichiamo il video e estrapoliamo solo l'audio. Andiamo ancora a destra. Modifica video. Modifica video. Cosa significa? Non è un vero editor video, quindi non si possono elaborare i video, anche perché, per non vedenti. Ecco, una cosa che non ho detto, che è accessibilissima in tutte le sue parti. Va bene, qualcuno mi dirà, se non lo fosse, non lo dimostrerei io che sono cieco. Comunque, qui abbiamo la possibilità di caricare un filmato, magari che abbiamo fatto noi, i nostri bambini che ci hanno mandato, al quale vogliamo aggiungere una colonna sonora, una musichetta di sottofondo. Quindi, questo è facilissimo. Qui possiamo prendere l'audio e a quell'audio aggiungergli il suono, la traccia di sottofondo, la colonna sonora. Andiamo a destra. Imposta volume. Ecco, qui, come vi dicevo, imposta volume. Attenzione, tutte queste impostazioni che vi sto facendo scorrere, le ritroviamo dentro ognuna di queste opzioni, diciamo. Ecco, ogni menu di questo, mentre stiamo lavorando, abbiamo tutte queste possibilità e poi ce le abbiamo individualmente. Andiamo a destra. Registrazione. Ah, dimenticavo, forse non ho detto una cosa. Imposta volume. Imposta volume, non è che lo alza e è bassa così, solo per l'ascolto, ma proprio alza. Che ne so, magari il registrato basso, quell'audio che ci hanno mandato, che abbiamo fatto, noi gli alziamo proprio il volume, che poi chi lo ascolta, lo ascolterà un volume più alto. Guarda a destra. Registrazione. Ecco, qui abbiamo un registratore. Ok, che noi possiamo registrare con mille modi, abbiamo mille tipi di registratore su live, eccetera, dice perché ancora uno. Vabbè, c'è. Cosa fa questo? Noi possiamo, intanto, un ottimo registratore. Ci suggerisce di usare gli auricolari, proprio per evitare suoni di disturbi esterni. Quindi se noi, quando registriamo la voce, usiamo un auricolare, viene davvero bella pulita. Una volta finita di, finito di registrare, la possiamo già tagliare. Che ne so, c'è sempre qualche sbavatura per iniziare, eccetera, no? Specialmente noi che usiamo il voiceover per non far sentire il voiceover, per non far sentire quello. Quindi cosa facciamo? Iniziamo a parlare. Noi suggeriamo sempre questo. Iniziamo a parlare, a registrare. Poi prima di dire le cose utili che ci servono, facciamo un countdown per 4, 3, 2, 1. E poi cominciamo a parlare. Quindi io so che nel momento in cui devo tagliare, 4, 3, 2, 1, taglio. Quindi faccio un taglio preciso senza vedere, diciamo, lo schermo, senza vedere l'onda sinusoidale che normalmente vedono i vedenti per fare il taglio. La stessa cosa per la fine. Quindi questo registratore ci dà anche questa possibilità. Attenzione però, questa applicazione, se abbiamo già un audio fatto, registrato con un'altra cosa, possiamo fare il medesimo taglio che vi ho descritto sopra. Chiaramente qui lo facciamo direttamente mentre registriamo, appena finito di registrare. Andiamo a destra. Equalizzatore. Ok, qui l'equalizzatore, non te ve lo spiego, quindi potete elaborare i suoni, ma equilizzarli proprio. Converti audio. Ecco, questa è una cosa importantissima. Converti audio. Quindi ci fa convertire in MP3, in M4A, insomma, in quello che vogliamo, da qualsiasi fonte arrivi. Quindi questo è davvero facile da fare e comodo da fare con l'iPhone, insomma. Ecco. Infatti andiamo a destra ancora. Converti da testo a voce. Ecco, questo invece è una cosa interessante. Converti da testo a voce. Qui purtroppo l'elaborazione è un po' complicata da fare, intendo dire, ma non per noi, da elaborare. E quindi questo conviene farlo quando si ha un buon telefono, di ultima generazione possibilmente, e avere anche un ottimo Wi-Fi. È importantissimo, perché altrimenti ci impiegate nella vita. Però questo in pratica cosa ci permette di fare? Di scrivere un testo, copiare un testo e creare un file audio con le voci che vogliamo. Quindi c'è tutta una serie di voci, che sono poi quelle che abbiamo anche sul nostro iPhone. Possiamo scegliere Paola, per dire. Federica, quello che vogliamo, Luca, e ci facciamo leggere il testo, ma ci crea un audio con quel testo che abbiamo scritto. Andiamo ancora a destra. Elimina la voce umana. Ok, questo invece elimina la voce umana. Già tante applicazioni lo fanno, quindi se abbiamo una musica con un cantato, con un parlato, ok, ci toglie la voce. Andiamo ancora a destra. Audio inverso. Ok, qui ci può, audio inverso, puoi invertire l'audio. Non ho mai capito a cosa possa servire, se non a giocare, però fa anche questo. E poi c'è ancora una cosa più strana. Inserisci audio. Ok, qui possiamo inserire l'audio, lo stesso lo dice. Compressione audio. Compressione audio, ok, qui possiamo cambiare la compressione degli MP3, di ciò che vogliamo. Chiaramente, a seconda della compressione che scegliamo, abbiamo una migliore o peggiore qualità. Converti in stereo. Qui possiamo, se abbiamo, diciamo, ci viene consegnato un audio mono, che è solo su un canale, e qui lo possiamo, diciamo, far diventare stereo. Non diventa una vera stereofonia, ma sentirlo su entrambi i canali, sui due canali. Si sentirà uguale, però, diciamo, non è mono. Audio vuoto. Ecco, ecco, questa è la cosa strana che vi dicevo. Parecchio da inizio anno che sto provando questa applicazione, abbiamo aiutati a, diciamo, a tradurre i pulsanti e compagnie varie, e mi sono sempre detto, ma cosa serve un audio vuoto? E' bene. E in realtà, invece, ho capito che a qualcuno può servire, insomma, la nostra fantasia spazia, quindi questo ci crea anche, che so, un minuto, due minuti, quello che vogliamo, di un audio vuoto, da poter, boh, usare come spazio, da usare vuoto, insomma. Alla vostra fantasia l'uso. Andiamo ancora a destra. Suonerei e contatti. Ecco, questa qui, diciamo, boh, qui in pratica ci fa tagliare, ci permette di tagliare un brano musicale dove vogliamo, con tutte le opzioni che vi ho fatto scorrere fino adesso, dopodiché, quando ci dice, questa, in pratica, non fa altro che aprirci GarageBand. E da lì si va avanti con GarageBand per salvarlo nella nostra, diciamo, nel nostro iPhone, la suoneria, salvare la suoneria nel nostro iPhone. Bene, questo è, diciamo, un escursus di tutto. Vado a destra. È selezionato, modificare. Modificare, vedete, sono arrivato, torno indietro. Suonerei e contatti. Sono arrivato, audio vuoto, sto tornando indietro perché ero già arrivato alla fine e sotto mi aveva portato sul pannello sottostante con i quattro pulsanti. Ecco, ora, quello che vorrei fare, abbiamo pensato di fare, è quello di invogliarvi con questo piccolo spot, tra virgolette. Di seguito vi farò vedere, invece, anche un'altra cosa, che può tornare utile, sempre per incuriosirvi, convertire un audio. Quindi vediamo quanto è facile. Poi, se avete bisogno, se vi interessa, sappiate che in Orbolandia, nel sito di Orbolandia ci sarà un articolo dove poter trovare il link per scaricare questa applicazione, per trovare anche questo tutorial che state seguendo, ma soprattutto per trovare le guide singole per ogni argomento che vi ho fatto vedere. Quindi ogni argomento che vi ho fatto vedere fino adesso, costruiremo una guida. Così, se interessa una cosa piuttosto che l'altra, vi seguite la guida che volete. Proprio perché fare un tutorial per tutta questa applicazione ci vorrebbe più di un'ora. Ok, a questo punto io direi di andare a convertire un audio. Converti audio. Eccolo qui, converti audio. Diamo un doppio tap su converti audio e vi faccio vedere questo quanto è facile. Dan BTN, oscurato, pulsante, forse, segno di spunta. Ok, qui... Azioni disponibili. Questo qui adesso è oscurato, ma servirà dopo quando avremo caricato il video che adesso andiamo a cercare. Quindi faccio il flick verso destra e ascoltiamo. Back, pulsante, forse, indietro. Ok, vedete che i pulsanti sono in inglese e io li ho etichettati, diciamo, anche in italiano, lasciando sempre il testo anche in inglese per non confondervi mentre vi dimostro questa applicazione. Voi se ve li etichettate potete togliere l'inglese ovviamente. Andiamo a destra. Importato. Quindi adesso vediamo cosa possiamo fare e scorriamo fino alla fine, cosa ci fa fare. Video, studio, Apple Music, musica online, pulsante, base batteria, 3, 2,9 megabyte, M4A. M4A. Prendiamo questo, diamogli un due più tà. Ok, torniamo indietro o col dito andiamo in alto a sinistra. Segno di spunta. Ecco, questo qui sarebbe per inserire. Quindi vi faccio vedere, siccome lui ci dice, ascoltate. Dan Btn, pulsante, forse, segno di spunta. Segno di spunta, no? Intendo dire... Pazioni disponibili. Ok. Io adesso qui lo etichetto. Quindi do un doppio tap con due dita prolungato. Avviso, etichetta elemento. Etichetta elemento. Vado a destra. Campo di testo, stai modificando. Dan Btn, modalità caratteri, punto di inserimento alla fine. Alla fine. Faccio spazio. Spazio, spazio, Btn, con errori ortografici. E adesso gli scrivo inserimento. Inserimento. Inserito inserimento. Ok. Vado verso destra. Fine. Castiera successiva. Campo di testo. Stai modificando. Cancella testo. Annulla. Pulsante. Salva. Pulsante. E salvo. Dan Btn, inserimento. Pulsante. Eccolo qui. Dan Btn, inserimento. Avete visto quanto è facile? Potete anche voi, se non vi ricordate i nomi in inglese, etichettarvi come ho fatto io. L'ho lasciato apposta da etichettare per farvi vedere. Quindi qui gli diamo un doppio tappo, perché inseriamo quello che abbiamo selezionato. Ecco qua. Seleziona il formato. Adesso selezioniamo il formato. Andiamo verso destra. MP3. Scegliamo MP3, però volendo... È selezionato. Clip. Oscurato. AC. AC possiamo scegliere. Clip. Oscurato. Pulsante. M4A. M4A lo è già. Clip. Oscura. WAV. WAV. Insomma, abbiamo tutto quello che ho. Adesso noi facciamo MP3. Clip. M4. Clip. AC. È selezionato. Clip. Oscura. MP3. MP3. Vediamo in un doppio tappo. MP3. È selezionato. Clip. Oscurato. Andiamo a destra. AC. Clip. Qui ovviamente ci fa vedere tutti. Noi abbiamo già scelto MP3. Clip. WAV. Clip. IMG. FLAC. IMG. Clip. Oscura. IMG. Pro Icon Raid. Oscurato. Guardate quanti, quanti possiamo. Clip. Oscurato. IMG. Pro Icon Raid. Oscurato. CAF. Clip. Oscurato. IMG. Pro Icon Raid. Oscurato. Clip. Oscurato. IMG. Pro Icon Raid. Oscurato. IMG. Clip. Oscurato. IMG. Pro Icon Raid. Annulla. Pulsante. Annulla. Vedete quante ce n'è? Ce n'è proprio. Adesso io ve l'ho fatti scorrere tutti per farvi vedere. Però ci sono mille possibilità. Alcuni di questi non lo nascondo, non li conosco neanch'io. Conferma. Pulsante. Ok. Che alla fine ci dice annulla se abbiamo sbagliato a scegliere. O conferma. E noi lo confermiamo. Dan Btn inserimento. Back. Pulsante. Cielo notturno. Cielo notturno. Ok. L'hai già elaborato. Edi finish ring button. Pulsante. Qui ci dice addirittura, perché magari questa qui poteva essere valida per fare una suoneria, quindi ci dice se vogliamo usarla come suoneria eccetera. Ma non è il caso che stiamo vedendo adesso. Vado a destra. Back. Pulsante. Base batteria. Base batteria. Questo ha tenuto il nome. 3. 2,9 MB. MP3. Questo è un MP3. More. Pulsante. Qui possiamo, c'è more, poi andiamo ancora avanti. Condividere. Pulsante. Possiamo condividerlo, possiamo condividerlo anche via WhatsApp, possiamo mandarlo a chi vogliamo. Forse hai bisogno. Qui però, attenzione, dopo torniamo sul more. Però vedete quello che vi dicevo all'inizio, quando stiamo lavorando con qualcuna di queste opzioni che vi avevo elencato all'inizio, alla fine dell'elaborazione ci dice, ascoltate. Condividere. Forse hai bisogno. Forse hai bisogno. Di cosa? Diamo a destra. Modifica multitraccia. È un multitraccia, lo voglio mettere in una multitraccia. Modifica audio. Voglio modificargli l'audio. Cambio voce. Cambiagli la voce. Lui non sa che qui non c'è voce, è una base di batteria. Imposta volume. Posso però cambiare il volume, insomma posso fare tutte queste cose senza uscire e andare a riaprire, eccetera, direttamente da questo file. Taglia l'audio. Posso tagliarlo. Taglia l'audio. Ok. Imposta volume. Cambio voce. Modifica audio. Andiamo su more. Modifica multitraccia. Forse hai bisogno. Condividere. More. Pulsante. More. Diamo un doppio tra. More. Avviso. Rinominare. Possiamo rinominarlo questo qui. Abbiamo fatto diventare MP3 e possiamo cambiare il nome. Condividere. Pulsante. Possiamo condividerlo. Elimina. Possiamo eliminarlo. Abbiamo cambiato idea. Modificare. O modificare. Ok. Quindi se modifichiamo si aprirà tutta quella facciata che abbiamo visto all'inizio. Noi condividiamo. Pulsante. Condividere. Pulsante. Rinominare. Condividere. Pulsante. Condividere. Diamogli un doppio tra. Edit finish ring button. Pulsante. Base batteria. Ok. Andiamo a destra. Registrazione audio. 2,9 megabyte. Chiudi. Pulsante. Allora adesso praticamente. Air drop. Pulsante. Possiamo condividere. Perché si è aperta la pagina delle condivisioni. Possiamo salvarlo su file per dire se ci serve tenerlo. Messaggi. Pulsante. Adesso provo a salvarlo su file. Mail. Pulsante. Whatsapp. Pulsante. Whatsapp. FTP manager. Pulsante. Vedete? Possiamo salvarlo come vogliamo. Io adesso scorro veloce e vado a salvarlo su file. Note. Skype. Diario. Dropbox. Just prep. Expand. Voluco. Altro. Copia. Put. Nuova nota. Aggiungi tag. Salva su file. Pulsante. Salva su file. Doppio tap. Sap. Spoglie. Pulsante indietro. Torniamo indietro. iCloud. Andiamo a destra. iCloud. Altro. Salva. Cerca. Avvia vettatura. iMovie. A prova. A salute Serge. A Super Sound. A Super Sound. Io ho creato una cartella e lo salvo qui dentro. Base batteria. Audio. L'altro ieri. 2. Avvia vettatura. Cerca. Campo di ricerca. Salva. Pulsante. Edit finish ring button. Pulsante. E qui abbiamo concluso. Back. Pulsante. Adesso. Forse indietro. Torniamo indietro. Il mio audio. Ok. Il mio audio. Andiamo a vedere adesso nel nostro studio in pratica. Tocco la parte bassa. È selezionato. Studio. Studio. Parte bassa. Il secondo pannello. Doppio tap. È selezionato. Studio. Pannello. 2 di 4. Parto da sopra. Base batteria. More. Base batteria. Edit btn. Pulsante. Ok. Sono già all'inizio. Base batteria. 3. 2,9 megabyte. MP3. MP3. Avete visto? Ho scelto questo qui. MP3. More. Pulsante. Base chitarra. Trattino basso 2. More. Pulsante. Prima registrazione. E qui ho tutto ciò che ho in lavorazione nel mio studio. Sarebbero tutti i file che ho in lavorazione. E salvati anche. E avete visto con quanta facilità mi ha convertito e che in quanti modi posso convertire un audio. Quindi spero che questo vi abbia invogliato, incuriosito. Se siete curiosi e volete approfondire questa applicazione e volete scaricarla, vi ricordo che basta andare nel sito di Orbolandia o nella ricerca che c'è in Orbolandia e cercare semplicemente Orbolandia Super Sound e troverete l'articolo. Dentro l'articolo troverete sia il link per scaricare dall'App Store l'applicazione, sia il link per questo video che è su YouTube e troverete le tracce guide per tutto ciò che può fare questa applicazione. Quindi per ogni voce che vi ho fatto scorrere all'inizio troverete una guida. Quindi se vi serve capire solo come aggiungere un sottofondo a un video che ha già un audio, aprirete quello e scoprirete come fare quello. Se volete, che ne so, aggiungere due tracce una sopra l'altra andrete lì su multitraccia, eccetera, eccetera. Se volete sapere come aggiungere volume avrete questa possibilità. Inoltre, cosa più importante, in descrizione di questo file di YouTube c'è il link diretto all'articolo dentro Orbolandia. Quindi qui dentro non dovete fare nessuna ricerca, andate diciamo nella descrizione qui sotto di YouTube e troverete il link diretto. Bene, spero davvero, siccome a me è piaciuta tantissimo, è piaciuta la sua facilità d'uso, la sua semplicità, la sua intuitività. Spero che possa piacere anche a voi. Comunque, Sergio e Fuego vi ringraziano per la pazienza ad ascoltarci. Vi dà un appuntamento alla prossima guida e soprattutto all'articolo con tutte le altre guide. Ciao, ciao! In descrizione trovi il link all'articolo su Orbolandia con l'opportunità di scaricare direttamente le applicazioni o documentazione di supporto a questo video. Iscriviti qui di seguito sul nostro canale per essere avvisato in tempo utile quando pubblichiamo nuovi contributi. Iscriviti qui a cura di QTSS